Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali, guidato da un settecentesco pianista mentre un'eterea ballerina balla sulle punte. Tutto come fosse un vero carillon d'altri tempi. Uno spettacolo itinerante che ha incantato il centro storico di Giuliano attraversando Piazza Gramsci, Via Roma, Corso Campano, Piazza Annunziata e Piazza Matteotti. Un'iniziativa organizzata dalla Proloco di Giuliano nell'ambito della Kermess Giuliano Città Natale. E per Giuliano Città Natale questa sera presso il Santuario dell'Annunziata andrà in scena alle 20 la Santa Allegrezza con Gianni Aversano e i Dama Daka, un concerto di Natale ispirato alla storia cantata della Buona Novella.